Buona domenica a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Tu puoi essermi occupato in un precedente videocorso tematico proprio qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, della ricerca e scaricamento legale di immagini da utilizzare per le nostre attività didattiche, per analogia era tempo che mi occupassi anche della ricerca e scaricamento di file audio colonne sonore, chiaramente libera da diritto d'autore per l'impiego nelle nostre attività ordinarie. Questo è importante per trasferire un messaggio concreto di educazione digitale, cioè l'etica e la legalità sono estremamente attinenti al digitale, siamo noi i primi, noi docenti, esperti, educatori a dare l'esempio non incitando a pirateria o superficialità ma a una scelta ponderata delle risorse. Ringrazio, lo dico ora così, insomma rendo giusto merito, per lo spunto, legato alla realizzazione di questo videocorso, un conterraneo, e ligure dunque come me, e grande uomo di scuola, qual è il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Sarzana, il dottor Antonio Fini, che non da oggi si occupa di innovazione didattica digitale e che, in uno scambio di battute piacevolissimo che abbiamo avuto, ha convenuto con me sull'importanza di questi temi. Ecco dunque tre risorse che fanno al caso nostro e prima un piccolo chiarimento sul perché esista qualcosa che non si chiama copyright. Il copyright è un all rights reserved, tutti i diritti riservati. In realtà ci sono dei file audio ed immagini che godono di licenze particolari, licenze che si chiamano creative commons. Con queste licenze contrassegnate da simboli specifici e la dicitura cc, il concetto cambia e diventa some rights reserved. Alcuni diritti riservati noi ne possiamo godere, chiaramente rispettando sempre determinate condizioni, ma non andiamo a ledere il diritto d'autore, possiamo scaricare ed utilizzare questi files gratuitamente. Ecco un primo cappello introduttivo che ci presenta le risorse che ora andiamo a vedere e ad utilizzare. Risorsa 1, bensound.com, sito di riferimento. Qui abbiamo le nostre anteprime, le categorie sono indicate in alto, altrimenti potremmo anche fare una ricerca, ma in realtà royalty free music lo abbiamo ben indicato. Prendiamo questo ukulele. A destra osservo la durata, il play mi mostra una simpaticante prima e me la fa ascoltare ovviamente, il click su download mi consente di scaricare nel comune formato mp3. È pulsante download nero, perché questo sito in realtà è una risorsa cosiddetta freemium, cioè in gran parte free, poi ha magari delle opzioni a pagamento che però non ci interessano. E perché? Perché l'utilizzo free in realtà è concesso a patto di fare che cosa? Solo di citare la fonte. Dovrebbe essere la nostra regola generale. Quindi se io utilizzo bensound e scarico ora con il tasto download qui bianco su fondo nero, io in realtà nel mio video, nel mio lavoro che andrò poi ad assemblare, riporterò file audio colonna sonora tratta da bensound.com. Un clic sul mio bel download. La cartella del mio computer la vado a specificare così come io poi la desidero. Vedete il formato mp3 di cui vi ho parlato prima. Clic su salva e poi qua chiudo con x. Andiamo a vedere la seconda risorsa utile. È per ogni ordine e grado di istruzione naturalmente ccmixter.org. Ecco il creative commons che ritorna. Possibilità di scegliere una di queste categorie oppure di cliccare a destra in alto su search. Quindi sulla ricerca. Search con quali parole chiave? Proviamo a mettere nature. Proviamo a cliccare su search. Abbiamo delle opportunità, quelle che ci vengono proposte naturalmente. Andiamo un pochettino, prendo non so questo get it, un titolo. Guardate, non è importante poi il brano. Con una piccola ricerca sapremo scegliere per parole chiave, in inglese preferibilmente, va bene anche in italiano qualche cosa si trova, il brano che più si confà al nostro utilizzo. Allora anche in questo caso clic sul play per una piccola anteprima durata e poi attenti bene, per scaricare clic sui tre pallini e clic su scarica, anche in questo caso comune formato mp3. Clic su salva. Terza ed ultima risorsa. Eccola qui. freemusicarchive.org.fma. Procedimento analogo ai precedenti. Un tasto arancione in alto a destra per la ricerca. Una riga in alto a destra, tanto quanto appena sotto a sinistra, per inserire la parola chiave da noi desiderata. In questo caso ribadisco il nature. Penso alla natura perché penso a un qualcosa di neutro che si presti, per esempio, ad un video legato ad attività di storytelling per la scuola dell'infanzia, o per la primaria, per la secondaria, e così via. Ricerco. Clicco su go. Guardate, con parola chiave nature già abbiamo 175 tracce, tracks. Procedimento analogo a quelli visti in precedenza. Un clic sul play. In questa maniera abbiamo, come dire, la riproduzione. Sentiamo se ci piace. A questo punto, per andare a scaricare la nostra traccia, clic sulla freccia rivolta verso il basso. Se si apre l'anteprima nel browser, come in questo caso, e abbiamo il controllo della durata, per scaricare ricordo, come prima, di fare un clic sui tre pallini e dunque di confermare con un clic tasto sinistro su scarica. Ricontrollo il nome, verifico la cartella in cui sto salvando. È un consueto file mp3, dunque vado a fare un clic su salva. Ed ecco che con sole tre risorse, e dunque tre siti web che vi consiglio caldamente di archiviare nei vostri preferiti, abbiamo svolto una operazione apparentemente semplice con reale competenza digitale e soprattutto dando un buon esempio, perché è quello che ricorderanno i colleghi ed è quello che ricorderanno i nostri allievi. A voi, come sempre, la prova pratica, la prova su strada, come sono solito dire. Ancora un caro saluto con l'augurio di una buona domenica da Andrea Cartotto e appuntamento al prossimo videocorso.